A Toro del Greco sono 53 le nuove guarigioni registrate ieri, certificate anche 10 casi di positività al Covid-19, tutti posti in isolamento domiciliare. Comunicati 5 decessi. Si tratta di due cittadini classe 1937 e tre di classe 1923, 1943 e 1948. Muta dunque il bilancio dei contagi nella città. 41 soggetti ospedalizzati, 217 in isolamento domiciliare, 2.189 guariti e 66 deceduti. Sono 55 i cittadini di Castellammare di Stabia e risultati positivi al Covid-19 nel periodo dal 23 al 28 dicembre 2020. Tra i nuovi contagiati un bimbo di sei mesi, 5 ragazzi tra i 10 e i 16 anni, un 89enne ed un 81enne. Le autorità sanitarie hanno aggiornato anche il numero delle persone purtroppo decedute a causa del Covid dal 6 dicembre. Si tratta di 14 cittadini stabiesi già noti alle cronache. Dichiarate guarite, infine, 27 persone. Tra di essi un ragazzo di 9 anni, uno di 15 ed uno di 17, ma anche un 82enne, un 83enne ed un 90enne. A Torre annunziata sono 11 nuovi casi di contagio dal Covid-19 nelle ultime 72 ore. Al contempo si registrano anche 18 guarigioni. Scende a 160 il numero di cittadini attualmente positivi, 144 posti in isolamento domiciliare e 16 ricoverati. Sarà a 1.367 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1.179 guarite e 28 decedute.